Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati qui da Pianeta Hobby Sono sempre il vostro Merka E oggi siamo qui sempre su Pokémon TDC Perché oggi vi porto un nuovo mazzo Questo mazzo sarà il Mega Charizard Quindi detto questo ci ritroviamo fra due secondi in partita Ok ragazzi abbiamo già dato subito la partita Leo Coz Sono in serie di una vittoria Io non so come faccio a farne più di tre Perché non ho mai superato più di tre vittorie di filo E dove stai lo sto scegliendo Mazzo di fuoco contro un altro mazzo di fuoco Quindi sarà una bella partita competitiva Decidi chi iniziare Ah inizio io? Muore, non muore Tra l'altro c'è una mostra che gira Bene, non benissimo Ok facciamo un Pokémon Perfetto Io non ne ho Perché la sfiga è continua Finito Pestiamo altre cartine Buono Si 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 va benissimo Benissimo Usiamo Talon Flame Che è importantissimo Questo mazzo è fondamentale Talon Flame Adesso lui girerà un Vulcanion Ex sono sicuro Perché dà la medaglietta E infatti ha il mazzo di Vulcanion Ok raga Mettiamo questo Mettiamo giù questo Attiviamo l'ultable Scartiamo Cerca sfide E l'altra ultable E ci prendiamo ovviamente La nostra Shymin Perfetto Prendiamo lo Shymin Giochiamo giù lo Shymin Attiviamo l'abilità Io tipo ragazzi Ho guardato 5-6 volte A sbagliare A trovare l'abilità Perché sono abituato A che si è sinistro Ho pescato delle carte Ingordabili Attiviamo questa Scartiamo l'energia E peschiamo 2 Oh Stava benissimo Prendiamo un N E Sì Utilizziamo N Ragazzi Cambiamo la mano Perché non mi piace molto Perfetto Perfetto È ancora peggio Di realtà Ma perché non mi gira? Sempre girato Sto dai ragazzi Sempre Vabbè Prendiamo questo E Passiamo al turno Ok raga Non è girato benissimo Poteva andare molto meglio Perché sotto al primo turno Riesco già a mettere Due energie Pokémon base Magari anche il legame Vabbè Posto allenatore Ultrabore Giustamente Poi Usa la Ultrabore Che non ha neanche Pescato manco quella Quindi scarta 2 E andrà a prendere Shimeen Ok No Non l'avrei mai detto Guarda Perfetto Perfetto Un'altra Ultrabore Ancora Scarta 2 Si piglierà qualcosa Poi utilizzare Lo shimeen Per scartare 4 Ok Volcagno Mette volcagno Sicuro Adesso utilizza La cintura Ah Minchia Pesca proprio 6 Ragazzi Il massimo Per scartare Guarda Giustamente Si fa la mano Buona Che buono Non ci metto Per niente a male Invece a lui Come al solito La vedo grigia La scelta Quest'altro Il vulcano Anemone Mette il professore Ok Lettera del prof Ah è corto di energia Anche lui Sicuramente attaccherà Userà la blizzera Ok Mi toglie un botto Mi toglie un botto Con l'attacco Non male Come combo Non è male Vi dico la verità Non è male Non è male Niente male Ok Oppa Benissimo Si Per forza Andiamo di oppa 1, 2, 3 E questi 3 Ce li mettiamo Tutti in campo Tutti e 3 In campo Immediatamente Ok Andiamo di questo Andiamo di lui Ancora lui Una bella energia qua Un legame a lui E poi usiamo Voglio usare Ragazzi Ragazzi Non voglio scambiargli La mano a lui Perché c'è troppa roba Pensavo peggio ragazzi Ma attenzione Potrebbe andarmi E vabbè però Per favore No vabbè Impressionante Due così Ma veramente Ma perché il gioco Deve fare così Andiamo a prenderci Delle carte Ragazzi Io Vado a prendere Io direi di prendere Un altro etere Sperando E un megaturbo Un altro megaturbo Perché adesso Se ho fortuna Eh no Non devo prendere L'altro megaturbo Dovevo prendere Platano ancora Vabbè Adesso questo Me lo seccherà Di sicuro Ma non è questo Il problema Professor Platano Ok Quindi Ho scartato Un due tre Gli avrei fatto Già un favore Se avevo usato N Prima Infatti raga Quindi Mi hanno fatto bene Non usarlo Ok Ancora Pompare Attacco di quelli Usa qui Tra lieve Va bene Non mi ha per niente Chiato male Mene sto deck Per niente Ovviamente Me lo fa fuori Non male Vabbè Noi ci mettiamo Il nostro Charizard E possiamo Già fargli Un po' di danni No Speravo di aggiungergli Almeno Un'altra energia Ma Come al solito La sfiga Mi perseguito Mi chiamiamo A lui Chià Omega Charizard Non potrà Far niente Ok Un altro Omega Charizard Ho due energie Non l'avevo Visto Questa Non l'avevo Visto Molto Molto Buono No Facciamo Così Devo Mandai Al cimitero Un bel po' Di Pokémon Più Ragazzi Ma Sfiga Di sto Gioco Sfiga Dai Usciva un'altra testa Lo shuttavo Invece No Invece No Usa N Va benissimo Ma Più che bene Anche a me Perché mi chiamia tutta la mano Non male Per niente male Lui è fregato Sta cercare un'energia Eccolo Eccolo Stavo cercando l'energia Per fare un attacco Di solito Debolezza Eh vabbè Questa Non me l'aspettavo Questa Non me l'aspettavo Tutta verità Non me l'aspettavo Ok Allora Energia Per forza Questo Ma vabbè Vavo Un'altra T4 Non è servita Niente Usiamo questo Ok Nada Ultraball Scarto Questa Eeeh Lui E mi prendo Mega C'ho Risalda Anche se non salva niente Perché non c'ho Legame mentale Dovevo prendere Shimee Allora Ho sbagliatissimo Ho sbagliato di brutto Però facciamo così dai Oh Attenzione Che forse Prendiamo n Ok Mammoli Mi tocca Mi sa che mi tocca fare Sta cosa ragazzi Prende le carte a caso Mette lo Shimee Ok Metto l'altro E pesco uno Se pesco Qualcosa interessante Potremmo fare qualcosa Ma purtroppo Il mazzo è girato Veramente Tanto Ho giocato male Vediamo di farlo fuori così Ma nemmeno così Ho girato veramente molto molto male Ho giocato male anch'io Sono stato distratto E ho giocato veramente molto molto male ragazzi Se no avrei già vinto sto turno Per far evolvere A fare la combo Con l'abilità Ok Non si giocava neanche più Quello starmi lì Ok Sono lì che me l'ambazza subito Ma no Me lo ritira Eh no vabbè Ma non è se stesso 200 200 Sì giusto Giustamente Come sta facendo Si è perso Sto tizio Si è perso Prima di domani Comunque ragazzi Il mazzo che c'ha lui Non è per niente forte C'è più che altro Che non è La fortuna Ma se li ha girato veramente bene stavolta Mi fa un bel po' di danni Però essendo Beh Ciao E ci metto questo Per come è girata Veramente Metto questo Metto questo Lui pesca una carta Grazie Pertiamo Un paio Ma Per quello che possono servire Mettiamo questo Mettiamo questo E poi siamo al turno ragazzi E mi sa che La partita L'ho letteralmente Persa Oh mio dio Questa cosa ho fatto Vuole proprio farmi tanto male Ma così tanto male Mi vuole fare tanto tanto male 220 Non male E niente Spero che il video vi sia piaciuto Scusate se ho giocato veramente molto molto male Ma il prossimo sarà sicuramente migliore E quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio Però mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivete e condividete E noi ci vediamo nel prossimo episodio Bella raga Swag Swag White Boys Swag Grazie a tutti.